Tin 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 Adagia spaccati che sto scattuscia Vita che mo cuore che mo battito che mo Adagia spaccati che sto scattuscia Vita che mo ti devo fare un aschami Un ascham e aschami Mentre stavamo montando la cantina All'improvviso sei saltato su quella ragazza bionda Perché non mi è piaciuto quell'atteggio vita Non mi è piaciuto quell'atteggio vita Non mi è piaciuto quell'atteggiamento eh Ti si pari che orizzontale vita Orizzontale ti si pari che orizzontale Ti si pari che Ti si pari che orizzontale ti faccio Perché sei re Perché sei re Perché sei re il suo sacco Quella ragazza bionda Perché l'istruttore Perché l'istruttore mi ha detto Monta la canatesa Perché l'istruttore ha detto Monta la... Perché l'istruttore ha detto Monta la canatesa Perché l'istruttore ha detto Monta la canatesa Perché l'istruttore ha detto Monta la canatesa Quore che mi ho battito A taciazzazzare Che sto 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 Ciao Ciao